Salve, allora, sono appena tornato da un paio di giorni di mare, come potete vedere dai capelli e dal fatto che ho deciso di non farmi la barba per un paio di giorni quindi, per chi volesse sapere come sono senza la barba, ecco, ora lo c'è, no, senza farmi la barba Comunque Volevo farvi vedere che tornato a casa Sono tornato un'ora fa Ho trovato le nuove magliette Che Per chi non lo sapeva se ho fatto delle nuove magliette Che sono sul negozio Di magliette E una signor Freca Cazzino è il mio logo Ve le faccio vedere perché non le avevo neanche ricevute Anche io Non le avevo ancora ricevute neanche io E come vedete non sono più abituato A fare il vlog Mezza settimana e subito mi disabituo Prima è questa Sono veramente contento Queste magliette sono una figata incredibile Prima è questa qui Non ho il braccio Asimmetrico rispetto all'altro E' fighissima questa maglietta Me la sono provata e mi sta Super bene capito E poi Ce n'è anche un'altra Immagino che ora vi state guardando il mio naso Ok Che è questa Super cool Io adoro le magliette di Spreadshirt Perché sono davvero ben fatte Hanno questo materiale che adoro Che non si rovina Quindi io ho tipo magliette che Ormai hanno qualcosa come due anni E sono ancora come nuove E' fantastico Quindi niente Volevo farlo vedere perché sono contento E dirvi che sono più o meno tornato Nel senso che Da questo video Interrompendo Il silenzio stampa su Twitter Che non è neanche deciso Però dopo un po' Mi sono riuscito a conto che volevo farlo Anzi in realtà volevo fare un vlog Volevo fare un vlog Durante questa vacanza Ma poi mi sono accorto che In realtà Avevo voglia di dormire e basta Ed è quello che ho fatto principalmente Ho dormito qualcosa come una media di 18 ore al giorno Perché è una buona cosa Credo Sembra dormire ancora un po' E quindi fof Tendenzialmente Buon venerdì Grazie dei follow friday A chi mi ha fatto il follow friday oggi Adesso Mi risponderò uno a uno Ehm Bra-bra-bra-bra Bra-bra-bra Arrra-la